Per Ruben Pfeffer, evitare i rischi è una professione. Ci chiediamo come si prende l'avvelenamento dai coli. In media una persona su sei si lava le mani dopo essere andata in bagno. Quindi lui fa sempre la scelta più sicura. Assicurerei ogni giorno del vostro matrimonio. Salve, lezioni di immersione? Beh, tu, a me non piace il sub. Sicuro. Ma quando pensava di poter evitare qualunque pericolo... Ehi là, turma! Oh mio Dio. Non è come sembra. Che luna di miele hai avuto? Terribile. Quanto mi dispiace, Ruben. Vieni. Sì, beh, è una cosa complicata. Niente scusa, è una puttana da quattro soldi e lo sarà sempre. Ti servono altre ferie? Va bene, buone cose. Solo rete! Sento che ora posso rimettere la mia vita ai sesto. Chiamerò Polly Prince per uscire. Pronto? Non la conosci neanche, Ruben! Non vi vedete dalla seconda media. Ciao, sono Ruben. No! E' un messaggio dettagliato dopo il pip. Mi ha chiamato tu ieri sera? Ehm, no, penso di no. Ah, un ratto in casa! È un puretto, non ci vede quasi più. Carino. Non è che sia un gran ballerino. Quando non hai mai preso un rischio in vita tua, il primo è sempre il più difficile. Come fai a portare Polly al ristorante? Hai lo stomaco debole. Stai bene, sì. Posso usare il tuo bagno? Oh, no. No, no. Oh, mio Dio! Dalla Universal Pictures... Da quando stiamo insieme mi sento a disagio. Fuori posto... ...e fisicamente a petti come mai nella mia vita. Se arretta tutto questo, vuol dire che ti amo. Quando faccio roba con una ragazza, le do una sculacciata. Cosa? Dagliela piano, una manatina sulle chiappette. Non le è piaciuto. Sì, alcune lo trovano offensivo. Ben Stiller, Jennifer Aniston. Palla! Oh! You got to me, you got to be me